Questo documentario è proprio un omaggio agli artisti e agli artigiani che lavorano dietro le quinte del cinema italiano e internazionale, per cui creatori di costumi e di scenografia hanno vinto dei premi prestigiosi come gli Oscar, allo stesso modo i grandi designer italiani sono tra i più importanti e più bravi, la più alta qualità in assoluto nel mondo. Io davvero amo questi bambini che sono portratti in il film e per me è una storia molto personala perché sono da questa area in Massachusetts e sono davvero in amore con queste domande a un po' ragazzo, quindi dopo aver fatto il film ho iniziato a lavorare sul fisico di restituzione delle domande, e questo è stato un grande parte di mio lavoro come architetto, è la restituzione. Ciao! Ciao!